E' stata una bella partita dove abbiamo dominato dal primo minuto fino alla fine Abbiamo venuto 3-0 anche se risultando un po' bugiardo perché abbiamo avuto un sacco di occasioni dove potevamo sfruttarle meglio Ma va bene così anche perché come si sa lo Schiavone ha perso e quindi abbiamo fatto un bel passo avanti Adesso rimangono queste ultime partite, dobbiamo fare il recupero con il Cassano Siamo a buon punto e bisogna solo vincere Grazie Massimo Mo' ci godiamo questa vittoria e poi ne riparliamo martedì agli allenamenti E niente, che dire, siamo a buon punto e speriamo che va avanti così Niente, è stata una partita molto combattuta Ci tenevamo tanto a vincere anche perché questa vittoria ci porta a 3 punti in più rispetto alla seconda Niente, sono molto felice, dedico questa vittoria a tutti i tifosi Un saluto a tutti